Cari amici, grazie per i messaggi che mi avete mandato dall'Italia e gli amici francesi. Adesso stanno cominciando gli amici spagnoli, argentini, che per il fuso orario li erano sei mattina presto. Siamo qui a Bordeaux, siamo soli perché non c'è nessuna nostra famiglia, però il compleanno è stato molto bello, ieri abbiamo festeggiato con degli amici e oggi volevamo andare a pattinare, ma è una bellissima giornata di sole, ma fa freddo, c'è troppo vento, quindi faremo la giornata del 41enne sul tivano a vedere la televisione. Poi vorrei commentare con voi, mia moglie dice che le calze bianche sportive sono grazie. Della Nike? No, non si crea che sono dei Nike. Non so che marca è Alida. No, no, no. È grazie, in spagnolo dice che è grazie. Io sono vestito e sto con tutta. Osea, la giornata negra con media blanca con le zapatillas è grazie. È grazie, ma forse è meglio con le ciabatte. Se si vede la media blanca è grazie. Ciabatte di 41enne. No, 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 di abuelito. Ma vedete, il cuore parte sempre a Buenos Aires. Ciao a tutti, grazie per gli auguri. E un bel 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 bel